Il caso di dire via col vento, oggi nella bufera tanto vento e Pescara ha conquistato questa vittoria importante, meritata, avete anche stretto i denti nel primo tempo ma nella ripresa avete avuto tantissime occasioni per segnare il terzo gol. Sì è vero, forse dovevamo chiudere la partita per essere più tranquilli perché bastava anche quel colpo di testa che ha fatto il miracolo Fiorillo, riapriva la partita e diventava una partita molto difficile fino alla fine, dobbiamo essere più bravi a chiudere le partite perché poi le partite hanno una storia sempre a sé, ma l'importante è aver portato a casa i tre punti, sono molto contento di questo. Lei aveva detto ieri in conferenza stampa che sarà una delle partite più difficili della stagione, nel primo tempo in realtà qualche problema il Padova ve lo ha creato, lei lo aveva previsto? Sì sì, l'avevo detto perché ho visto la squadra, conosco la realtà, perciò sapevo che era una partita molto difficile, devo dire che siamo stati bravi a capitolizzare molto bene il primo tempo i gol e nel secondo tempo l'abbiamo gestita bene. Con questo modulo il Pescara continua a far punti, ne avevo fatto la stessa domanda a Crotone, gliela faccio anche oggi. Ma io lo ripeto la stessa risposta, ne abbiamo fatti anche 34 con l'altro modulo, così che a di là dei moduli cosa è l'atteggiamento, cosa si mette in campo, probabilmente così siamo meno prevedibili, abbiamo più fantasia, più estra davanti. Si può dire che dopo quel 5-1 con il Brescia qui allo Stato Adriatico forse è scattato qualcosa nella mente dei giocatori perché già da Foggia si è rivista una squadra diversa? Sì, lo spirito di rivolsa, lo spirito di dire che ci siamo ancora, che non molliamo e questa deve essere una caratteristica che ci accompagna fino alla fine, non mollare mai. Il Pescara classifica la mano e ha un punto dalla Serie A diretta, il Presidente Sebastiani lo ha detto, noi perché no dobbiamo puntare anche al salto diretto nella massima Serie A, lei ieri in conferenza stampa ha detto prima la salvezza, ora la salvezza con questa vittoria è a posto, da domani si inizierà a pensare ai play-off. Il primo obiettivo ho raggiunto, direi oggi, con 41 punti, il primo obiettivo ho raggiunto a 12 giornate della fine, questo è già molto importante. Era quello che le aveva chiesto la società in estate, la salvezza? Sì, questo mi aveva chiesto di portare la salvezza, a valorizzare qualche giovane, diciamo che la salvezza l'abbiamo raggiunta, adesso dobbiamo concentrarsi e pensare al prossimo obiettivo che sono i play-off, fare più punti possibili e partita dopo partita. Oggi un'altra prova importante da parte della difesa, questa difesa proprio dopo la gara di Brescia ha tornato a chiudere le porte, oggi un grande campagnaro, bene anche Gravion sulla fascia, Ciofani si è rivisto anche per rotta. Sì, sì, noi abbiamo bisogno di tutti, tutti devono essere pronti perché devono dare una mano al pescare a calcio, tutti, dal primo all'ultimo. Chi viene chiamato in causa, chi prima, chi dopo, deve sentirsi partecipe, così deve essere, perché noi abbiamo bisogno di tutti i giocatori, anche chi è in questo momento fuori. La sostituzione di Campagnaro per motivi precauzionali? No, perché aveva un problema l'aduttore, mi ha detto che non ce la faceva e ho dovuto fare il cambio.